Musica Bentrovati cari amici di Nuovo Insieme con l'appuntamento con Confagricoltura News vado subito a salutare e presentare l'ospite di questa sera, è tornato a trovarci ve l'avevamo annunciato la settimana scorsa Gianni Azzini dell'ufficio tecnico di Confagricoltura Mantua Ciao Gianni Ciao Allora di nuovo insieme in questa puntata, la settimana scorsa abbiamo parlato di Nutri e questa settimana invece parliamo di un bando, un bando importante da 26 milioni di euro dedicato all'ammodernamento delle macchine agricole, bando che si è aperto un paio di giorni fa Sì, questo bando che trova le risorse dal PNRR nazionale aprirà appunto il 22 di gennaio e resterà aperto fino a marzo È un bando fortemente voluto da Confagricoltura, il nostro Presidente ha spinto molto per avere questi finanziamenti, questi 26 milioni che ricadono sull'ammodernamento delle aziende Abbiamo investimenti legati alle attrezzature macchinari, alla possibilità di effettuare quindi attrezzature macchinari di ultima generazione agricoltura 4.0 investimenti legati all'irrigazione, quindi irrigazione di precisione sempre legate a agricoltura 4.0 e la possibilità di sostituire veicoli a meno impatto ambientale, quindi elettrici e idrogeno Noi effettueremo un incontro il 29 di gennaio su questo bando quindi in Confagricoltura faremo questo seminario dove spiegheremo come funziona il bando quali sono le finalità e quali sono gli interventi possibili il contributo per un massimale di 35 mila euro di spesa al 65% e un altro 70 mila euro sempre al 65% quindi in base agli interventi ci sono dei massimali e delle percentuali di contributo Noi siamo disponibili come Confagricoltura Ufficio Tecnico a sostenere le nostre aziende per la presentazione delle domande Ripeto, è un bando fortemente voluto da Confagricoltura che spero possa permettere ai nostri imprenditori di migliorarsi dal punto di vista del loro parcomacchine e degli investimenti per gli interventi di tipo ambientale come l'irrigazione e essere più sostenibili Assolutamente, grazie, grazie a Gianni Erzini per essere stato nostro ospite grazie a voi che ci avete seguito vi diamo appuntamento come di consueto alla prossima settimana con Confagricoltura News Arrivederci Grazie a tutti